E' venerdì 25 novembre, ultima puntata della settimana per la nostra trasmissione. Buongiorno e bentrovati. La webcam di apertura stamane ci porta in diretta via internet a Lovere in provincia di Bergamo. Vediamo un cielo coperto. Come sarà nel resto della regione? Lo chiediamo all'ARPA Lombardia dove abbiamo Davide Dallalibera. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Bene, il cielo si presenta come da webcam appena visto, quindi cielo grigio su tutta la Lombardia con delle deboli piogge in atto specialmente sui settori occidentali, sui settori trealpini. Lo vediamo anche, vedete, con l'aiuto della grafica. Per quanto riguarda invece le temperature risultano essere molto al di sopra della media del periodo, comprese tra i 13 e 15 gradi sulle zone di pianura. Ultime ore di maltempo, ultime ore di pioggia, poi un netto miglioramento con un weekend all'insegna del tempo asciutto. Ma per i dettagli ci rivediamo più tardi.